Qui vi presentiamo le 5 migliori libri per ragazzi. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. 13 libri per ragazzi. Presso la struttura di guida, il tema scottante del bullismo. Anna dedicò l'autodistruzione e, prima di compiere il gesto finale, inviò ai suoi compagni torturatori una serie di registrazioni in cui afferma come arrivò alla sua terribile scelta. 13 storie che toccano Clay così come molti dei suoi compagni di classe in prima persona che angosciano per sempre le loro vie. Passando al numero 4. Colpa delle stelle. È il sesto unico composto da John Environment Friendly. Grazie a un farmaco speculativo, il giovane Agel si sta recupero senza credente dal canto. Tuttavia, mentre saltava tra le corse delle strutture mediche e rimaneva una lunga struttura medica, il mondo correva veloce, lasciandola alle spalle i suoi coetane. Un giorno incontra Augusto, un affascinante compagno nella miseria che la sconcerta con la sua volontà di vivere. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Divergent la serie completa Divergent Insurgenta Legend 4. La scatola ha tutti i libri della leggenda di Veronica Roth così come è proposta in una versione limitata, con il numero stampato sulla cassa. La collezione è incorporato in una Chicago distopica, dove non esiste una società totalmente libera ma tutti devono prendere una decisione da quale fazione venire tra i 5 disponibili. Quando Beatrice scopre di non appartenere a nessuna squadra, deve nascondersi sperando di non essere... Almost at the top of our list at number 2. Unger Games. La trilogia. Una versione di classe e anche upcover della trilogia di Suzanne Collins The Appetite Games, The Girlulfire, The Tune of Revolts. Il leitmotiv è popolare vincere metodi fama e ricchezza, perdere è una fatalità particolare. Per vincere devi scegliere tra sopravvivenza e amore, tra egoismo e relazione. E infine il numero 1 della nostra lista. Harry Potter. La serie completa italiano copertina rigida. In occasione dei 15 anni di Harry Potter, si consiglia la collezione di box dell'intera serie, di cui 7 quantità. I fan del Mago possono quindi scoprire Harry Potter e anche il Tinker's Rock, Harry Potter così come la Camera delle Chiavi, Harry Potter e il Detenuto di Azkaban, Harry Potter e anche la Coppa del Fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter così come il Principe Mezzosangue e Harry Potter. Nonché i Santi dell'Amper per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.